Nel paese dove tutto è possibile, a Puglia è reale, la vita di un uomo che è tutto bello tra le mani, la vita di un uomo che è tutto bello tra le mani, la vita di un uomo che è tutto bello tra le mani, ma non so, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.